buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di cotto e smangiato oggi serviremo un'ottima porzione di pasta macarbonara in primis abbiamo saltato la nostra pancetta con il semplice olio una cosa molto veloce ecco qua nel frattempo abbiamo preparato una lega di latte uova parmigiano abbiamo mischiato tutto insieme l'acqua andiamo a mettere la nostra pasta una tavolata importante con almeno un kg di pasta spiega abbiamo riversato la nostra pancetta e adesso l'ultima chicca il nostro uovo mettiamo un attimo a scaldare e mescoliamo in tutto cotto e smangiato è ruttato è oltretutto uno spigemina